Buongiorno a tutti, io sono architetto, sono dottore di ricerca e mi occupo da un po' di tempo, un po' tanto tempo, di aspetti legati al tema della digitalizzazione nel settore delle costruzioni, quello che tecnicamente viene, forse troppo sinteticamente viene associato alla parola BIM, che in realtà presumerebbe un approccio un po' più ampio, però mi occupo di gestire in parte, poi vi dico come, questo momento di transizione del settore costruzioni verso una progressiva digitalizzazione. Completo la presentazione che in qualche modo prima Rossella faceva cenno, presentandomi anche come appunto nei ruoli che in questo momento sto rivestendo, incrocio il tema delle costruzioni digitali fondamentalmente sotto tre, passatemi il termine, categorie principali, come formazione ovviamente, coordino il Master BIM della Facoltà di Architettura di Sapienza, insegno nel corso triennale di project management delle costruzioni, partecipo e oggi in aula, qui in sala vi sono rappresentanza della scuola di Perugia all'ITS dell'Umbria, per tornare al tema dell'ITS di cui parlava adesso Rossella. Quindi formazione di diverso spettro, post lauream con il Master, ragazzi dell'università con il corso di laurea e ITS quindi ancora più giovani, quindi formazione. Incontro il tema delle costruzioni digitali nel ruolo di committente fondamentalmente, perché ho svolto e sto svolgendo in questo momento il ruolo di supporto al commissario per le opere di governo per il mondiale di Cortina 2021 e il mondiale di sci, quindi un committente digitale che chiede alle imprese di lavorare secondo dei processi digitali e quindi quello mi dà un altro punto di vista per fare anche un po' lo stato dell'arte al momento di com'è la situazione reale poi sui cantieri e delle competenze che hanno le persone per poter soddisfare a quello che noi gli chiediamo come committenza. E poi il terzo che è altrettanto importante, mi occupo del tema digitale con un ruolo nell'Istituto Italiano di Standardizzazione nell'Uni, contribuendo appunto a coordinare un gruppo di lavoro che si occupa di alcuni aspetti legati al digitale nel mercato. Il digitale va commissionato da un committente che sa commissionare il digitale a cui rispondono progettisti e imprese che sanno rispondere con competenze, e qui torniamo al tema delle competenze digitali. Questa è un po' la mia presentazione completa che, come dire, mi rendo conto è molto sfaccettata e che però mi, in qualche modo, mi ha, come dire, convinto sempre più che comunque lo chiamiamo BIM, digitalizzazione, poi ci metteremo d'accordo ma in questo momento forse è poco importante. L'obiettivo a cui dovremmo tendere, forse dovremmo ragionare per obiettivi che per definizioni, forse è anche rappresentato dalla slide che io sto qui proiettando come copertina in realtà, cioè un settore delle costruzioni più efficiente, più efficiente perché interconnesso secondo regole e secondo procedure, che prende efficienza ed efficacia e robustezza in quelle che chiamiamo tecnologie del digitale, che in mancanza però di regole condivise probabilmente non funzionerebbero perché ognuno farebbe il pezzettino proprio. Quindi questa è un po', secondo me questa immagine riassume un po' l'obiettivo attendere anche del tecnico digitale che forse è un signore che vive in questa fascia più bassa in cui ho evidenziato nella slide tra persone, attrezzature, cantiere, equipaggiamenti e così via ma che a sua volta dà il suo piccolo contributo a, in qualche modo, a integrare i flussi informativi che rendono la catena delle forniture delle costruzioni più efficiente e quindi l'industria e la reputazione anche del settore maggiormente qualificata. Per rimanere al tema del settore delle costruzioni li conoscete meglio di me probabilmente questi numeri, questi sono alcuni numeri esplicitati dalla ricerca di Eubin Task Group che delinea un settore delle costruzioni in Europa che vale più o meno il 9% del PIL dell'intera comunità, impiega il settore costruzioni più o meno 18 milioni di persone, 3 milioni dovrebbero essere il numero di imprese, che però, come dire, settore che quindi rappresenta un pezzo importante di PIL che impiega tante persone che però negli ultimi vent'anni, anche secondo la ricerca di Eubin Task Group, è cresciuto soltanto dell'1% in termini di produttività negli ultimi vent'anni, quindi un settore che rappresenta una quota significativa dei comparti produttivi ma che praticamente non cresce da vent'anni. Eubin stessa, da questa premessa, individua proprio nelle tecnologie digitali dei fattori abilitanti alla gestione dei processi delle costruzioni basati su dati, quando diciamo processi delle costruzioni, tutti i processi delle costruzioni, dalla pianificazione alla progettazione alla costruzione che mi sembra essere più il focus ovviamente della giornata di oggi, poi è la fase di esercizio, quindi in realtà l'Europa, e questo Rossella nell'esposizione che ha appena fatto ne ha dato evidenza, punta sulla digitalizzazione non in quanto fine a se stesso, ma quanto metodo di lavoro per efficientare un settore delle costruzioni che impiega tante persone ma che è troppo poco efficiente, è troppo poco attraente, ha una reputazione troppo bassa. Questo è il motivo per cui in questo momento tutti stiamo assistendo a questa crescita così importante del tema che poi viene sinteticamente definito BIM, ecco c'è un'equazione che regge fino a un certo punto tra le due cose, a mio modestissimo avviso ovviamente. Qual è il valore sempre per l'Europa dal digitalizzare il settore costruzioni? In questa matrice sempre estrapolata dal report dell'estate 2017 di Obintas Group sono ben evidenziati, risparmi di tempi, risparmi di costi, come dire, mitigazione degli impatti ambientali dei cantieri, migliori condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Volendo banalizzare ce n'è per tutti, nel senso che un processo maggiormente ottimizzato poi riverbera positivamente su tutti i pezzettini che compongono il settore stesso, il settore costruzioni. Se l'esigenza è questo, l'obiettivo è questo, il valore è quello, forse probabilmente stiamo parlando, e questo è un altro termine che questa mattina è stato evocato più di una volta, stiamo probabilmente trovando la via per dare maggiore qualità all'intero processo costruttivo, che parte dalla pianificazione, che arriva alla progettazione, alla costruzione e così via. In che termini? In che termini il digitale efficienta il processo? Sicuramente lo può rendere più efficiente, prima parlavamo di comunicazione, trasmissione dati, il cantiere è un sito esterno rispetto alla sede dell'azienda e quindi questa distanza è dal committente, questa distanza potrebbe essere accorciata appoggiandosi alle tecnologie dell'ICT, dell'Information Technology, Communication Technology. Non solo maggiore efficienza ma anche forse maggiore efficacia. Se io lavoro su dati, su dati strutturati, posso cominciare a fare analisi maggiormente strutturate sulle quali prendere le mie decisioni? Può l'impresa, l'azienda con i dati, strutturati, ripeto, che provengono dai cantieri, prevedere migliori condizioni di sicurezza, fare proiezioni di mercato? Può farlo? Può farlo se sotto c'è una competenza diffusa delle skill sul tema digitale, diffusa dai tecnici, agli operai, ognuno per la quota parte che gli tocca, che gli compete in quella catena che abbiamo visto nella prima slide. Fondamentalmente tutto ciò dovrebbe anche conferire maggiore robustezza quindi alle operazioni, robustezza pure qui in tutti i sensi definita, economica, robustezza in termini di mitigazione dei rischi e degli incidenti sul lavoro, robustezza intesa nella sua più ampia accezione. ovvio, anche chi mi ha preceduto ne ha parlato, che tutto quello che abbiamo fin qui disegnato come un libro dei sogni passa però per l'adozione di tecnologie, macro tecnologie che già sono state classificate e chi mi ha preceduto le ha ben definite, che però forse, pur essendo tutte ugualmente importanti, ne vedono una come abilitante poi di tutte le altre. che io vi ho segnato in un cerchietto qui in basso a sinistra, un cantiere digitale, un'impresa digitale che opera con tecnici operai con capacità digitali dovrebbe prevedere un'infrastruttura digitale e aziendale basata su processi e infrastrutture cloud dove quei dati che provengono dai cantieri vengono analizzati, incrociati, parametrizzati per fare previsioni, monitoraggio e così via. Questa è un'altra testimonianza che poi per quello che stiamo vedendo, io vi racconto delle cose che è una po' la sintesi di quello che stiamo vivendo e vedendo delle multifaccettature di cui parlavamo all'inizio. Perché è proprio sull'infrastruttura cloud che i modelli del cosiddetto BIM, i dati che arrivano dal cantiere nei rapportini di cantiere e così via, i documenti che elaboreranno, la foto di cantiere, la videoripresa arrivano a confluire e a incrociarsi con altre origini dati che magari vengono dall'internet delle cose, sensori di cantiere, controlli degli accessi, controlli delle temperature, arrivano sul cloud e sul cloud si sviluppano algoritmi previsionali del comportamento del cantiere stesso sul quale prendere decisioni. Ecco, quindi l'altro sassolino che volevo lasciare, tecnici, digitali, le costruzioni, qual è l'infrastruttura da cui partire in mezzo alla realtà aumentata e alla realtà virtuale? Forse converrebbe ragionare se il cloud potrebbe essere la tecnologia fra le 10 o fra le 9 abilitante poi la realtà di tutto il resto. Se non c'è un cloud è complicato e poi fare tutto il resto. È ovvio che su questi temi il tema delle competenze a questo punto diventa fondamentale. Io vi dico la mia testimonianza di, non quella accademica, quella, chiamiamola professionale, non è scontato che una persona nel 2020 sappia rinominare un file, è BIM, è digitale, non lo so ma attenzione perché il livello da qualificare a volte è anche molto basso quindi a volte parliamo di competenze ma pensiamo anche a quelle basse insomma perché a volte non lo diamo per scontato che questo sia così diffuso come pensiamo che possa essere. Sulle competenze, non vi ho messo riferimento, ma sulle competenze del digitale nel settore delle costruzioni si esprime anche non solo la norma 1.11.337 con le sue parti nella sua parte 7 ma anche la ISO 19650 sulle competenze degli operatori del digitale. Quindi anche lì specchiare il progetto, questi progetti formativi a delle normative che comunque esistono o comunque si stanno sviluppando consente a tutti di parlare la stessa lingua perché altrimenti il rischio è che prendiamo strade diverse e tutte apparentemente legittime. Io in conclusione, come dire, volevo concludere con questa slide che è un po' un riassunto secondo me di quello che ci siamo detti in questi pochi minuti. se quella slide iniziale, che per me è appunto l'obiettivo, un settore costruzioni maggiormente efficiente, maggiormente produttivo, con prodotti di maggiore qualità, perché realizzati con processi di maggiore qualità e se sono di maggiore qualità sono anche più sicuri e così via. Dicevo, queste probabilmente sono un po' le suggestioni del tecnico delle costruzioni digitali. il tecnico delle costruzioni digitali che opera in cantiere, ma come riverbera tutto ciò su un scavatorista? Probabilmente nel saper governare una macchina per fare gli sterri che porta le quote riferite a una scheda dati inserita nella macchina stessa e le sue competenze sono quelle di saper controllare non solo l'escavatore ma anche il computer di bordo che riporta le quote a sua volta come dire in qualche modo fornite all'operatore dal tecnico invece di ufficio che sulla base di dati estratti da modelli ha basi informative geometriche precise e quindi lo scavo risulta maggiormente affidabile e maggiormente preciso. Io ho chiuso e ripeto, lascio con questa slide che per me dovrebbe essere l'obiettivo e il contenitore in cui tutte queste competenze che mano a mano si stanno formando a diversi livelli e anche a diversi livelli formativi, ITS, l'università e i corsi post laurea dovrebbero tendere. Grazie.